Sei persone presunti appartenenti ad un'associazione per delinquere finalizzata alla Commissione di Reati di Natura Economica e che avrebbero agevolato Cosche d'Indrangheta di Legnano, Lonate, Pozzolo, Avvarese e Vibo Valencia sono state arrestate stamani dai finanzieri dei Nucle di Polizia Economico-Finanziaria di Varese e Milano in un'inchiesta della DDA milanese coordinata dai PM Alessandra Cerretti e Silvia Bonardi. Dalle indagini è emerso che i clan avrebbero avuto interessi ramificati nel settore della sanità lombarda in relazione alle attività connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 con particolare riferimento a forniture di materiale sanitario ed esecuzione di tamponi da parte di soggetti a ciò non professionalmente autorizzati. La presunta associazione per delinquere acquisiva società in crisi che una volta entrate nella sfera di operatività dell'organizzazione venivano portati al fallimento non prima di averne completamente depaupurato il patrimonio in danno dei creditori, primo fra tutti l'erario nei confronti del quale le imprese si sono rese inadempienti in merito agli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte dovute.